A Trani successo per l'iniziativa organizzata per il centenario dalla nascita di Astor Piazzolla, il noto musicista e compositore argentino. L'evento, in streaming, è stato pensato per celebrare il genio musicale dalle radici tranesi. Il servizio. Grande successo per l'edizione speciale di Tango Talk Special Edition Piazzolla 100, in occasione del centenario dalla nascita di Astor Piazzolla, il noto musicista e compositore argentino. In diretta Facebook, da Palazzo delle Arti Beltrani, sulle pagine di Festival del Tango Trani, Centenario Piazzolla e Città di Trani, sono stati tantissimi gli internauti collegati da tutto il mondo. A causa della pandemia, l'evento in streaming, pensato per celebrare appunto il genio musicale Piazzolla, ha visto un parterre di tutto rilievo collegato online in un ponte ideale tra Trani, l'Italia e l'Argentina e ha consentito agli ideatori e promotori del centenario Piazzolla, già organizzatori del Festival Internazionale del Tango Trani, di illustrarne il fitto calendario. L'occasione è stata ideale per suggellare un gemellaggio culturale tra due sponde, quella tranese e quella argentina, che custodiscono le radici profonde del riformatore del tango. In onore di Astor Pantaleon Piazzolla, sono intervenuti i due sindaci della città di Trani, a Medeo Bottaro, e della città di Mar de Plata, Guilermo Montenegro, i quali si sono promessi che questo gemellaggio si sostanzierà e si concretizzerà appena l'emergenza sanitaria da Covid-19 lo consentirà. Per il centenario Piazzolla è previsto un anno di eventi, che si concluderanno a marzo 2022. Saranno 50 gli eventi e 100 gli artisti coinvolti, oltre a tante novità. Dall'11 marzo scorso sono partiti proprio in occasione del centenario dalla nascita del grande musicista argentino di origini tranesi, due concorsi, uno musicale e l'altro letterario. Il primo concorso internazionale di Bando Neone e Musica d'Insieme Astor Piazzolla, la città di Trani 2021, per portare alla luce i migliori musicisti emergenti. Il secondo è il concorso premio letterario Oblivion, in collaborazione con la casa editrice Durango Edizioni. Sono inoltre previsti per il mese di luglio il Piazzolla & Friends, tantissimi concerti interamente dedicati al genio di Piazzolla, compositore di oltre 3.000 brani musicali, che spaziano dal nuovo tango, al jazz, alla bossa nova, fino ad arrivare al rock. Un evento internazionale di spessore con artisti di importante calibro. Dal 15 al 18 luglio è stata confermata l'ottava edizione del Festival Internazionale del Tango Trani. Ed infine, da settembre, è previsto anche un ricco programma di eventi teatrali. Tutte le associazioni della città saranno coinvolte nei festeggiamenti per il centenario di Piazzolla. L'artista che ha rivoluzionato il tango e ha dato nuova vita e nobiltà a questo genere.